Se il colpo numero 13 Fleximen lo ha messo a segno nell'Alta Padovana a Villa del Conte, dopo la provincia di Rovigo che detiene il primato con otto azioni del giustiziere dei Velox, la provincia di Padova sale rapidamente nella classifica con il caso di Tribano e il Velox abbattuto tra venerdì e sabato notte a carceri lungo la strada regionale 10. Dubbi che si tratti di un'azione di Fleximen restano per i due Velox di Cadoneghe lungo la strada 307 del Santo, uno dei quali è stato fatto esplodere con polvere epirica il 9 agosto. Fleximen, da cui il nome, sega i tubi metallici con i flessibili e proprio le scintille sarebbero state registrate dalle telecamere di sorveglianza posizionate lungo la strada regionale 10 Variante a carceri, passate al setaccio da carabinieri e polizia locale. Non solo Rovigo e Padova, colpi di Fleximen si sono registrati anche nel Bellunese, a Passo Giau e a Riese Pio Decimo. Uno o più persone in azione, imitatori che stanno man mano emulando i vari colpi, i fascicoli sono aperti per danneggiamento aggravato, le indagini non si fermano.